Non muovere un muscolo, Leon. Non vuoi che usi questa, vero? Dopo ben sei anni, questo è il saluto che mi merito. Ada. Non sembri sorpreso. Interessante. Il coltello è meglio per il corpo a corpo. Una bella mossa. Davvero di classe. Per chi stai lavorando stavolta? Oh, Leon. Lo sai che sono riservata. Dimenticala. È spacciata in ogni caso. Se vai via adesso, chissà, forse ci rincontreremo. Potrei darti quel saluto che desideravi. Credi mi arrenda così facilmente? Giusto. Rimandiamo la conversazione un'altra volta, ti va? Bene. Qual dunia? Giusto. Che'da? Guarda. Quindi della?